Musica Eccoci qui pronti per cominciare insieme una settimana, buon lunedì, maggio inoltrato. Noi ritroviamo però un graditissimo ospite, grande professionista e anche grande amico del salotto di mattinotto, il professore dottore Antonio Pacilio. Buongiorno. Buongiorno, ben trovato per chi ancora non conoscesse le sue specializzazioni, podologo e posturologo. Grazie. Oggi parleremo di un altro argomento importante che ci riguarda, quindi non riguarda soltanto una fascia, ma può riguardare insomma anche un bel po' di persone. Parleremo appunto di tendinopatia, ma prima di addentrarci come siamo soliti fare, ormai anche tu hai imparato un po' la scaletta, no? Perché sei un abitué di mattinotto. Mattinotto, sai che io appunto comincio sempre col dare le indicazioni per poter prenotarsi, perché ancora ad oggi bisogna prima chiamare, prenotare e poi recarsi verso il centro podologico Pacilio, che si trova sempre a San Giorgio a Cremano, unica sede, via Margherita di Savoia 26, ormai a memoria. 25-081-2750-21, ecco qui il sito www.centropodologico-pacilio.it, ci sono anche però le pagine social, ci sono anche tanti video veramente molto esplicativi anche su YouTube. YouTube, Instagram, sì. Instagram, cerchiamo sempre di dare delle indicazioni pre-visita, forse. Sono complete così, ci si fa sempre un'idea del professionista, della sede in cui si sta recando e quindi ovviamente per avere un po' di info generali. Assolutamente, però io vi dico, garantisco io per il professore dottor Antonio Pacilio, che insomma davvero vi affiderete in mani non giuste di più, e potrete risolvere delle problematiche dove spesso appunto veramente si procrastinano per veramente settimane, se non addirittura mesi, mesi, anni. Assolutamente. Quando parliamo dei piedi, quando parliamo della postura e della colonna vertebrale, sappiamo che quello è proprio il supporto di tutto quanto il nostro corpo. Quindi assolutamente deve essere tutto perfetto, altrimenti si sposta a qualche cosa e... E di conseguenza si sballa un pochettino con l'equilibrio, con le omiostasi, che il corpo ha. Assolutamente. Veniamo adesso alla tendinopatia. Innanzitutto che cosa significa tendinopatia? Allora, la tendinopatia è una sofferenza, vediamo da queste immagini, una sofferenza proprio maggiormente, ovviamente abbiamo indicato la tendinopatia dell'achilleo, quindi la tendinopatia è quella zona bassa dietro al tallone per intenderci, quella sofferenza che porta molto spesso un qualsiasi individuo, di sesso femminile o maschile. In questo cosa parliamo di una donna con delle scarpe da walking fondamentalmente, che ha una sofferenza che si tocca dietro al tendine di Achille. Quindi la tendinopatia si differenzia poi tra quella che è inserzionale da quella che non è inserzionale, quindi una sofferenza del tendine in generale. Si differenzia dalla tendinite, di cui abbiamo parlato l'altra volta, che la tendinite è l'infiammazione del tendine. Perfetto. Questa è un'apatia, una sofferenza proprio del tendine che può essere legata a più fattori. Ok. Da una ipersollecitazione del tendine a una degenerazione anche che nel tempo può presentarsi al tendine, che prenderà poi il nome di tendinosi, ma quello lo vedremo successivamente. Allora, veniamo proprio ai sintomi, perché penso che si possa confondere, almeno noi, banalmente, non essendo comunque esperti di settore, potremmo scambiarla e confonderla proprio con una tendinite. Assolutamente. Allora, molto spesso i segnali e i segni anche clinici che possono portare a una prima distinzione e differenziazione, come vediamo in questo caso, la tendinopatia inserzionale in sé per sé, quindi quella che coinvolge il tratto finale, o se vogliamo chiamare anche iniziale, del tenne, è quella dove il tenne si inserisce all'osso, sull'osso. Quindi in questo caso parliamo il tenne d'Achille che si inserisce sul calcagno. Quella parte terminale si chiama entesi e quando si forma una calcificazione in quella zona si parla di entesopatia calcifica, il famoso sperone retrocalcaneare. Ok. Lasciamo adesso nel frattempo lo sperone e localizziamoci proprio su quella banda rossa. Quella banda rossa sta proprio a coinvolgere l'infiammazione, quindi il famoso dolore di cui abbiamo parlato la scorsa settimana, che coinvolge quella porzione del tenne che è ipersollecitata. Cammino male, ho un'errata postura del corpo, sono in sovrappeso, ho un errato appoggio plantare, ho subito qualche trauma in quella zona, oppure sono andato a fare un'attività motora con delle calzature inadatte, oppure magari per una frequenza o per una tempistica o su una superficie che per me in quel momento non era perfettamente idonea, quindi irregolare. Può avvenire, nei casi anche di dolore, che il tendine si accorci? Noi abbiamo quella sensazione che mettendo, poggiando il tallone a terra, come quasi se non avessimo più il Come si fosse accorciato. Sì, come se si fosse accorciato. Una delle risposte in termini di alterazione può essere un espessimento del tendine, un accorciamento del tendine. Oppure, in quella fase diciamo poi di tendinosi, una sorta di sfilacciamento del tendine. Io dico sempre ai pazienti, quando vengono per cercare di fargli capire in cosa consiste la tendinosi, che comunque è una sofferenza del tendine, ma è una degenerazione del tendine, e dico, guarda, il tuo tendine è come se fosse l'erdammer, il formaggio, è microforato. Quindi in conseguenza, per esempio, delle piccole lacune, delle piccole aree che non gli danno più un'elasticità, ma di fatto hanno reso un tessuto fibroso, quindi un tessuto che non è perfettamente elastico come prima. Accidenti. E questa è la tendinopatia in sé per sé, quindi la sofferenza proprio del tendine stesso, che, dicevamo prima, per un discorso puramente e maggiormente didattico abbiamo indicato la tendinopatia dell'Achilleo, ma in realtà la tendinopatia potrebbe essere anche la tendinopatia del quadricipite, potrebbe essere la tendinopatia del bicipite, potrebbe essere la tendinopatia del bicipite, cioè può coinvolgere più tendini, ovviamente più muscoli, perché ricordiamo che il tendino ovviamente è la parte iniziale e finale del muscolo. Perfetto. La parte poi che si inserisce sull'osso si chiama entesi, quindi è in tesi, tendine, muscolo, tendine. Stiamo imparando delle cose proprio, fra un po' ci iscriveremo al tuo corso, Doc, perché ti aspetto come studenti. Oggi è in qualità di dottore, ma è anche professore universitario, quindi insomma tutte queste cose, poi le spieghi anche in maniera piuttosto grande. A me sono 18 anni, 17 anni che insegno, 16 anni, adesso non ricordo. Poi magari se abbiamo tempo ti chiedo qualcosa, perché immaginiamo maggio, giugno e luglio siano mesi di esami. Sì, adesso sì, mesi di tesi, di preparazione, tantissime tesi da vedere, da correggere, da rimandare, da rimodulare, però sì. Però, però, si fa, si fa tutto. Si fa, si fa, con amore si fa tutto. Assolutamente sì, con grande passione e dedizione come tu sei solito fare. Allora, categorie che sono più esposte, fasce di età, oppure per esempio, che ne so, i giovanissimi non sono esposti. No, assolutamente. Ti rispondo subito alla domanda e colgo questa immagine a volo. Questa immagine permette di capire che in realtà il dolore dal tendine può estendersi, ovviamente in momenti in cui si parla di infiammazione, come diciamo nella scorsa puntata, e quindi di dolore, può essere, se non trattato nei giusti tempi o in maniera corretta, essersi in altre zone, quindi convolgere delle zone adiacenti comportando una, magari un'errata diagnosi da parte dello specialista. Ok. Per cui si fa una cosa che si chiama diagnosi differenziale, ce lo devo differenziare nel momento in cui viene il paziente, lo visito, nel nostro caso vediamo piedi di ginocchio e anche schiere, lo visito e cerco di localizzare le sedi di dolore, le maggiori sedi di dolore ovviamente, devo differenziare quelle che possono essere le principali patologie o la patologia in quel caso del paziente che mi trovo davanti. Benissimo. In quale età si può presentare? Ragazzini, adulti, anziani, persone che iniziano a fare sport, adolescenti iniziano a fare sport, perché? Perché ovviamente nei ragazzini può essere legato magari a una problematica, abbiamo parlato anche se non ero, l'abbiamo già parlato, si chiama morbo di serie del blanco, è una problematica di nucleo di accrescimento. Ok. Di fatto è un problema dell'osso, del nucleo di accrescimento, ma ricordiamoci che vicino c'è il tendine, quindi il dolore può estendersi nella regione superiore al tendine di Achille e quindi abbiamo già visto i ragazzini dagli 8 a 10-12 anni, questo è uno sportivo, quindi un runner che può essere un amatore o un professionista, quindi professionista che sa con quali scarpe correre, su che superficie correre, per quanto tempo corre, dove potessi spingere magari già sottoposto a un iter vautativo da parte del posturologo, del poliologo posturologo, magari da parte del fisioterapista per alcuni acciacchi non tanto va a trattare, con dei bendaggi o con della terapia fisica. Quindi è un po' più avvantaggiato. È un po' più avvantaggiato perché già conosce già più come ha fatto la sua gavetta, diciamo così, ok? L'amatoriale, quindi l'amatore in sé per sé magari inizia a correre con delle scarpe inadatte, cioè usate scarpe per fare, per il walking, quindi per camminare, anziché le scarpe da running. E c'è una differenza. La differenza qual è? La scarpa da walking è sembra sottolineare il piede mentre camminiamo. La scarpa da running è una scarpa che nasce per ammortizzare il carico che durante la corsa diventa tre volte maggiore. Io ho peso 80 kg, 8, 16, 24, la scarpa deve sopportare 240 kg. All'interno ha un gel ammortizzante, ha una sola particolare, in questo caso è un flight flom, tutte queste cose, che permette, questo gel permette di ammortizzare il carico che da libretto illustrativo, chiamiamolo così, dovrebbe durare 1200 km, ma chi corre in maniera regolare dopo 5-600 km al massimo deve cambiare la scarpa, perché quel gel è come se si fosse riassorbito, non è capace più di ammortizzare, di fare quel movimento di bounce e quindi sostenere il corpo, il ginocchio, il piede in quel movimento di ammortizzamento e quindi va a sostituire. Utilizzata per camminare sì, per correre no. Quindi la prima differenza è nelle scarpe, sulla superficie in cui corro, una cosa è che corro in outdoor, quindi corro sul tapirloan, in palestra, una cosa vado in outdoor, o se vado su pista, o se vado su strada, la strada è irregolare, quindi c'è il marciapiede, c'è magari una buca, c'è il basolo che magari è instabile, il tombino che si muove, ok, per intenderci, devo fare attenzione alla macchina, al motorino, alla bicicletta e così via. Possiamo pensare di recarci dallo specialista anche per la creazione di plantari ad hoc? Assolutamente, noi facciamo ad esempio degli sportivi, come in questo caso, facciamo una votazione, ah, questa mi fermo un attimo, istantaneamente, mi fermo perché abbiamo realizzato dei ortesi plantari in omaggio allo scudetto del Napoli. Bellissimo! Allora, non avevamo in quel momento specifico il colore azzurrino, insomma azzurro e bianco, proprio per determinare l'azzurro del Napoli, ma abbiamo ideato questa ortesi plantare con i colori dell'Italia, quindi con lo scudetto, per intenderci, la bandiera italiana, il nostro scudetto vinto. E l'azzurrone che comunque è campione d'Italia. L'azzurro, il blu e l'Italia in generale, colore dell'Italia, quindi era uno dei ortesi plantari realizzati sempre con il metodo pacifico, quindi ricordiamo che questo è un metodo registrato assolutamente, a mio nome, ideato, personalizzato, ideato da me personalmente e che permettesse ovviamente di omaggiare i campioni del Napoli che avevano vinto ovviamente lo scudetto. E questa è un'idea carina. E questa è un'idea carina che ci è piaciuta e che ci siamo subito messi all'opera per... Oltre all'aspetto tecnico c'è anche la gradevolezza. L'aspetto ludico e sociale, anche estetico, è sempre qualcosa che ci permette di migliorare, insomma, che rende il quadro sempre più gradevole. Eh, però io adesso te lo devo chiedere. È vero che esteticamente è molto carino, ma il rosso significa qualcosa dal punto di vista proprio tecnico? Poi se tecnico solente l'abbiamo messo proprio davanti, l'abbiamo messo proprio davanti in sé per sé perché maggiormente le sedi di alcuni dolori del piede maggiori sono una legione anteriore, anche se in questo caso, come dicevamo prima, le tendinopatie e quelle del piede nello specifico sono una legione posteriore. Eh, ti dicevo, nello studio facciamo, quindi ci ritorniamo un momento a prima, un esame che si chiama Running Analysis, quindi dopo aver fatto una votazione funzionale specialistica del piede e della postura, si fa una votazione sportiva, quindi su un tapirulano sensorizzato con una telecamera che permette di filmare appunto l'analisi della corsa, quindi del gesto atletico si vanno ad analizzare quelle anomalie del piede o della postura o dell'arte inferiore legate al gesto atletico. Quindi quando c'è un problema si va sempre a cercare la causa e come ricordiamo sempre, non sempre la zona dell'alterazione è quella in cui può presentarsi il dolore, ma può essere anche altrove. Quindi studiare il corpo nella globalità è la soluzione che ci ha permesso e ci permette di migliorare in associazione al nostro metodo registrato le problematiche dei pazienti che giungono da noi in tutta Italia, ogni giorno. Quindi adulti, anziani, ragazzini e poi ovviamente donne e uomini. Perfetto, sportivi, non sportivi, non sportivi, amatori, professionisti, calcio, abbiamo parlato dei runners, ma in realtà la stessa cosa vale per il tennista, per il regbista, per il cestista, quindi basket, tennis, calcio, perché sono degli sport pluridirezionali e che vanno maggiormente a sollecitare due strutture. Quella avampodale, che è molto spesso presente dalla metatarsagiesa, esamorite, quindi qualcosa di cui abbiamo già parlato, è che sono delle infiammazioni della regione anteriore, quindi metatarsale, la regione anteriore del piede. Differenza da noi da quelle tenniopatite invece riguardano la regione posteriore, perché i bruschi arresti e ripartenze, quindi ripartire e quindi viaggiare da una zona e spostare immediatamente, ruotare, fare un pivot, ovviamente crea una maggiore sollecitazione del tenni, oltre che delle strutture osteoarticolari. E in questi casi, per esempio, le scarpette o comunque i plantari come devono essere? In questo caso si va sempre a valutare, lo sport specifico, la calzatura, va eliminata quella calzatura usurata. Ad esempio, negli ultimi giorni abbiamo trovato una ragazzina che giocava a tennis, che aveva una tenniopatia dell'Achilleo, ma che aveva il rivestimento interno della scappa, nella regione posteriore del tallone, completamente inesistente, c'aveva un foro, quindi c'era il contatto diretto del tallone con la resina, il tessuto plastico che ci dita la scarpa. E immaginiamo di avere una scarpa che non sostiene, non protegge il piede in una posizione di questo tipo. È normale che la regione posteriore, quindi la zona ossea, ma anche quella poi del tendine, venga ad essere ipersolecitata e infiammata non solo dal gesto atletico abnorme, pluridirezionale, con scivolamenti, tutte le ricadute frequenti, ma anche legata all'attrito stesso di quella zona contro un tessuto plastico che non è più rivestito da un rivestimento che adempie proprio a sopportare il traumatismo diretto della zona cortina. Quindi le scarpette sono fondamentali così come il plantare perché sono il supporto. E ovviamente in quella scarpa, in quella cosa, viene ideata una stura ortesiologica e tenendo in considerazione il peso del paziente, l'attività motoria, la tipologia di problema del piede, la tipologia di problemi posturali, un'eventuale dismetta di arti inferiori, un'eventuale curva scolore e ovviamente il gesto atletico e o la presenza dell'eventuale dolore in quel momento. I borsiti. Immaginate quante caratteristiche deve avere il nostro plantare se... Deve essere qualcosa di studiato ad hoc e di personalizzato in relazione a tutta una serie di fattori che non possono esimere i professionisti a una valutazione di due minuti o da non prendere correttamente un'impronta secondo degli esami particolari, secondo degli esami computerizzati specifici. Ecco, quindi vediamo adesso sul da farsi. Diagnosticamente quindi noi abbiamo visto appunto in passato tante volte quel famoso esame dove c'era l'impronta... Baro podometrico, qualcosa che permette di andare a analizzare l'appoggio del piede sia nella fase estate, quindi si mette soffermo ad occhi aperti, ad occhi chiusi, vautare la stabilometria del corpo ma vautare anche durante la dinamica. Quindi io vado a misurare la distribuzione del carico su ogni centimetro quadrato del piede, quindi in chilogrammi su centimetro quadrato. Vado a misurare la tempistica, il tempo che quella determinata porzione di piede o quel piede compie per svolgere quella determinata passo o semipasso. La lunghezza del passo, l'angolo del passo, tutta una serie ovviamente di parametri, la posizione del baricentro che si sposta, la posizione dell'emibacino, destro e sinistro, sono tutti fattori che ovviamente si muovono nel momento in cui noi ci spostiamo e deambuliamo per noi in maniera fisiologica e normale. Per ovviamente chi studia questo, quindi alla fattispecie noi, un'analisi completa di tutti i fattori permette ovviamente una bautazione e una diagnosi completa ed oggettiva di quello che è la reale problematica e la reale terapia o l'iter terapeutico personalizzato da adottare in quel paziente. Senza dimenticare che in alcuni casi, e quindi non ad esempio la tendinopatia, in alcuni casi magari all'esame clinico, quindi alla palpazione, alla visita, va associata magari a una ecografia. Molti pazienti fanno direttamente la risonanza, no, si fa l'ecografia che è l'esame di primo livello. Dopodiché se necessario eventualmente si fa una risonanza. Quindi prima la visita, quindi esame clinico, poi lo specialista, appunto come vedete, come state sentendo, appunto prescrive un esame di primo livello che non è la risonanza ma è l'ecografia e poi successivamente passa... Perché dall'analisi oggettiva clinica e diagnosi, la palpazione, una serie di cose è necessario fare quella tipologia di esame prima, per non passare poi ad un esame più invasivo e che in quel caso magari può anche non servire, è più costoso, ma anche in quel caso non serve. Esatto. Se è necessario si fa l'ecografia, se proprio dovesse essere necessario si farà dopo, ma io lo faccio due volte l'esame. Si fa a step, tutto si fa a step. Tu ti sposeresti mai, attento, con una donna senza fidanzarti prima? Senza convivere? No. È la stessa cosa. Io dico sempre alle pazienti più giovani o quelle più testate, dico adesso ci fidanziamo. Se ci troviamo bene, ci sposiamo. Che significa? Adesso ci stiamo conoscendo. Io adesso sto appurando una raratura e l'entità del tuo dolore. Facciamo questa cosa che io ti dico ti risolverai il problema. Se ti risolverai il problema, significa che stiamo bene insieme e ci sposiamo. Quindi il nostro rapporto si fortifica e tu avrai maggiore fiducia in me e ci sarà una maggiore comprenza di coppia, che in questo caso è una coppia professionale, ma che di fatto diventa comunque una coppia perché c'è un rapporto e una compliance tra il paziente e lo specialista stesso. Assolutamente. Bisogna affidarsi, avere fiducia e soprattutto ascoltare le indicazioni dello specialista. Esatto. Allora, quindi abbiamo visto i sintomi, abbiamo visto praticamente tutta la fase clinica, diagnostica e poi la terapia? La terapia dipende ovviamente dalla zona del dolore e dalla natura del dolore. Sì. Allora, dalla terapia conservativa, distinguiamo sempre la terapia conservativa dalla terapia chirurgica. La terapia conservativa è tutto quello che non è cruento, quindi ortesi plantali, terapia fisica, quindi fisioterapie, bendaggi, riposo, terapia infiltrativa e adesso dopo vedremo anche quello. Fino ad arrivare ovviamente da dove la terapia conservativa per assurdo e per un periodo prolungato, 5, 6, 7, 8 mesi, non ha una risoluzione completa, reale ed oggettiva del dolore, si passa alla terapia ovviamente chirurgica. Sto fermandoci su terapia conservativa. Noi ovviamente dopo la valutazione, voi con i bendaggi funzionali, voi con i tape che sono quei cellotti colorati di cui abbiamo anche parlato, voi con la laser terapia podologica che va a rimuovere comunque l'eliminazione dell'infiammazione, voi con la terapia ortesica plantale neurobiomeccanico, il metodo pacilio, voi la terapia anche in associazione con il fisioterapista, che è la terapia fisica con la tecarterapia, le onde d'urto, molti pazienti, io sono andato e ho già fatto un ciclo di onde d'urto, sì, ma che, sai, il problema, la natura del problema, sai che problema hai? No, io ho fatto le onde d'urto, ho fatto le sedute, un dolore di cane non l'ho risolto. A prescindere. A prescindere, pensavo di risolvere, no, è spiegato solo tanti soldini che magari potevi risparmiare e potevi investire in un'altra cosa nel tempo. Quindi anche in questo caso la collaborazione tra podopossuologo, fisioterapista, chirurgo ortopedico, si fanno adesso anche delle infiltrazioni di PRP, il famoso... Parlavamo appunto della terapia infiltrativa. Infiltrativa. Di che cosa si dice? Allora, la terapia infiltrativa si distingue, i tre principi più usati sono la terapia cortisonica che in realtà vicino ai tendini e nessun articolo non dovrebbe essere utilizzata perché il cortisone a lungo tempo comporta A una degenerazione dell'osso, quindi una maggiore predisposizione all'osteoporosi e all'osteopenia sia nella donna che è più predisposta ma anche nell'uomo B una maggiore degenerazione e predisposizione alla tendinosi del tendine quindi il cortisone vicino al tendine può provocare un invecchiamento più precoce. Poi si è passata all'utilizzo dell'acido jauronico o si utilizza anche l'acido jauronico quindi maggiormente l'acido jauronico l'ozonoterapia che permettono comunque di andare a creare, di annutrire quella zona direttamente il loco attraverso questa terapia infiltrativa che è l'ortopedico, il fisiata nel senso si effettuano il loco. Ultimamente si è passata alla PRP, la terapia di ultima generazione che viene definito plasma ricco di piastrine, esatto, si fa un prelievo quel sangue arriva in una centrifuga che praticamente fa il suo lavoro perché separa il plasma dalle piastrine. Si prende questo gel che si chiama pappa piastrinica proprio ovviamente inserisce una siringa e si inietta quindi in realtà io sto prendendo il tuo stesso tessuto sanguigno quindi il tuo stesso sangue e te lo sto riempiantando, rigenerato è quella famosa rigenerazione cellulare, quelle famose cellule staminali così cerchiamo di capire queste famose cellule staminali, cosa sono, cosa, cosa, sono questo è la rigenerazione del tessuto e si rimpianta in quella zona adesso la stessa cosa la fanno anche i chirurghi estetici prendono il grasso da un sedere un po' più abbondante dalla culotta del cheval e lo possono rimpiantare nel seno stessa cosa, viene lavorato, viene riempito di fattori di crescita e viene nuovamente infiltrato e reinserito per una donna che magari non vuole mettere la ponte se ho una necessità, magari a un polo superiore più svuotato io vado a riempire il polo superiore con il tuo stesso grasso lavorato e che permette un riempimento maggiore della zona superiore stessa cosa succede al piede quindi vediamo e gli effetti come sono? gli effetti terapeutici sono innanzitutto difficilmente il corpo non accetta quella sostanza perché è tua, quindi difficilmente non l'accetta l'accetta subito la risposta è possibile perché comunque va a rigenerare quei tessuti non è detto che da sola possa essere utilizzata ad esempio noi abbiamo avuto dei buoni risultati in alcuni pazienti professionisti in un'associazione tra terapia ortesiologica e PRP che abbiamo scaricato e messo in assi il piede e ovviamente lo specialista con cui abbiamo collaborato in quel caso ha rigenerato la zona con il PRP quindi con il gel e l'icchio di piastrine questa famosa pappa piastrini quindi associazione di due specialisti che hanno collaborato e quindi sicuramente i risultati saranno ottimali perché hanno permesso alla credito di finire il campionato di finire di vincere una coppa di portare a termine la stagione sportiva insomma un qualcosa che permette diciamo che si stanno facendo grandi passi in avanti quindi sempre di più e soprattutto poi quando c'è la competenza e la professionalità insomma il risultato è quasi io utilizzo sempre un pochino c'è un'alea di dubbio, di incertezza ma quasi sicuramente appunto si risolverà la questione assolutamente allora il tempo a nostra disposizione guarda doc io adesso avrei approfondito sul PRP eccetera eccetera magari la prossima volta assolutamente allora 081 27 50 21 prenotate subito il vostro consulto il centro podologico Pacilio si trova in via Margherita di Savoia 25 a San Giorgio a Cremano unica sedia andate anche a sbirciare sui social e sul sito internet grazie grazie a voi consigli preziosissimi grazie a voi e anche amici di Mattinotto perché ci sostenete e ci seguite sempre con affetto arrivederci e ci ritroviamo domani alle 11 grazie a voi andate 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 a voi and